Un minuto con Padre Pio dal Giordino del Convento dei Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo per raccontarvi cosa scrisse Padre Pio a Padre Agostino il 10 ottobre del 1915. Padre Agostino gli aveva fatto tre domande precise e ora scopriamo insieme le risposte. È una lettera molto importante questa che spesso dimentichiamo nella storia di Padre Pio ma che ci fa capire quello che accadde effettivamente nella sua pietrelcina a qualche mese, a qualche giorno dalla sua ordinazione sacerdotale. Parliamo del settembre del 1910. La prima vostra dimanda è che volete sapere da quando Gesù cominciò a favorire la sua povera creatura delle sue celeste visioni e se male non vi appongo queste dovessero incominciare non molto dopo del noviziato e quindi siamo già nel convento di Sant'Elia a Pianisi nel corso dei suoi studi. La seconda dimanda è se l'ha concesso il dono ineffabile delle sue sante stimmate. A ciò deve si rispondersi affermativamente. La prima volta di quando Gesù volle degnarla di questo suo favore, scrive Padre Pio, furono visibili, specie in una mano e poiché quest'anima, tal fenomeno, rimase così esterefatta, pregò il Signore che avesse ritirato questo segno visibile, quindi parliamo delle stimmate a piana romana. Dallora non apparsero più, scrive il giovane Padre Pio, però scomparse le trafitture. Ecco, Padre Pio parla di trafitture, non per questo scomparve il dolore acutissimo che si fa sentire, specie in qualche circostanza e in determinati giorni. La terza ed ultima dimanda che mi fate è che il Signore abbia fatto provare e quante volte la sua coronazione di spine, la sua flagellazione. La risposta anche a quest'altra dimanda deve essere pure affermativa. Circa il numero non saprei determinarlo, solo quello che valgo a dirne si è che quest'anima sono vari anni che ci oppacisce e quasi una volta per settimana. Parvi d'avervi umidito, non è vero? Con stima, scrive a Padre Agostino, vi bacio le mani e degnatevi di sempre benedire questo vostro povero figliuolo Frappio. Grazie 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 Grazie